Musica Human Digital Cyber Open Payment Quale sarà il modello futuro del settore bancario? Sono questi i temi principali del Forum Banca 2019 l'evento più importante in Italia per il mondo fintech e per il settore bancario Giunto alla dodicesima edizione, Forum Banca 2019 sarà anche un momento di incontro e di confronto per tutti i 110 speaker presenti in queste due giorni essi infatti si confronteranno e cercheranno di disegnare la nuova banca 4.0 Forum Banca 2019, siamo in compagnia di Julian Shark, CEO di E-Genius intanto Julian, cos'è E-Genius e spiegaci ai telespettatori qual è il prodotto che vede racciato sul mercato che è Crystal? E-Genius è una scale-up italiana partita tre anni fa con l'obiettivo di democratizzare l'accesso alle informazioni siamo un'azienda che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale con l'obiettivo di far parlare letteralmente ai dati quindi di evolvere un po' quello che è l'interazione delle persone con le informazioni abbiamo lanciato sul mercato Crystal quest'anno che è il nostro prodotto principale quindi dopo tre anni di vita l'azienda ha praticamente lanciato il suo primo tesoro Crystal è stato posizionato a livello internazionale come il primo consulente virtuale al mondo un sistema conversazionale simile a Apple, Siri, Google Assistant piuttosto che Amazon, Alexa che diversamente da questi sistemi che rispondono a delle domande è un sistema più proattivo che impara delle interazioni con l'utente ed è in grado di fornire suggerimenti proattivi quindi cambiando un po' il paradigma delle persone che parlano con i dati da persone che parlano con i dati a dati che parlano le persone Hai parlato precedentemente di scale-up cosa serve a una start-up per diventare scale-up e poi diventare la famosa azienda unicorno? Il percorso da start-up a scale-up è il percorso di lancio sul mercato della validazione del modello di business e soprattutto del fit che il prodotto deve trovare sul mercato quindi trovare dei clienti che sono disposti a pagare per il prodotto che fornisci noi siamo partiti a inizio di quest'anno con la parte di business development siamo riusciti con successo a mettere il prodotto in produzione su migliaia e dozzine di migliaia di utenti questo quindi ci ha permesso di passare da una fase di ricerca e sviluppo a una fase di business development quindi quando sei una scale-up sei un'azienda che non punta più a confermare la propria esistenza ma a crescere sul mercato e quindi di conseguenza andare verso un percorso di conversione di più clienti ottimizzazione del prodotto, lancio di nuovi prodotti un'azienda unicorno raggiunge una valutazione sul mercato pari a un miliardo quindi è una scale-up che non solo è riuscita a dimostrare che può vendere un prodotto sul mercato ma venderlo a tal punto da poter capitalizzare un miliardo di dollari riguardo invece appunto voi la vostra azienda si basa su intelligenza artificiale quale pensi che sia l'apporto che può dare intelligenza artificiale al settore bancario? Allora a noi piace dire che in iGenius stiamo sviluppando tecnologie per deliberare per abilitare un'intelligenza aumentata più che artificiale un'intelligenza aumentata che punta a umanizzare l'interfaccia utente portando due benefici da una parte rendendo accessibili servizi a utenti non tecnici a utenti che non riescono ad utilizzare esperienze e software complesse dall'altra parte diventando proattivi quindi anche quei utenti esperti che hanno poco tempo possono tramite la semplificazione dei servizi ottenere il massimo vantaggio che questi servizi offrono Parlando invece di numeri com'è andato l'ultimo semestre anche rispetto al precedente e come prevedete il prossimo semestre? Allora noi in questo momento abbiamo una crescita esponenziale chiaramente quando si parte da poco all'inizio passando per una conversione di clienti continua e quindi da zero a diversi milioni e dozzini di milioni di fatturato chiaramente la crescita è 200-300% su base trimestre il secondo semestre rispetto al primo è molto buono abbiamo in pipeline circa 50 milioni di fatturato solo in Italia abbiamo abilitato una serie di canali anche all'estero che ci stanno portando nuovi lead quindi vediamo un semestre che ci porterà non solo a diventare cash positive dopo un solo anno di sviluppo di business ma potenzialmente a creare anche dei utili per la prima volta Quindi quali sono in due parole i prossimi obiettivi per il 2020? Allora gli obiettivi per il 2020 è sicuramente essere più presenti a livello internazionale abilitare una serie di partner chiavi sul mercato che ci permettono di essere più capillari sul mercato proprio perché appunto essendo una scale up, un'azienda piccola vogliamo focalizzarci più sulla parte di automazione sulla parte di intelligenza del prodotto quindi andando a fare bene quello che sappiamo fare e lasciare a chi invece è in grado di portare il prodotto sul mercato fare la consulenza giusta per posizionarlo al posto giusto e occuparsi di questa parte Grazie! Grazie! Grazie!